La zona arancione in cui sono piombate le marche lunedì scorso non soddisfa nemmeno gli ambulanti del mercato San Decenzio di Pesaro. Il divieto di spostamento da un comune all'altro si ripercuote anche sui loro guadagni, miseri di questi tempi. Qui si lavora solo con gente del posto e resistere è difficile, eppure il mercato all'aperto resta al luogo più sicuro, raccontano gli operatori del settore, alle telecamere di Fano TV. Qualcuno nei mesi scorsi ha già gettato la spugna, e chi resta non nega le difficoltà legate a un comparto, quello del commercio ambulante, profondamente in crisi. Ci cambia perché la gente dal comune non si può muovere e quindi c'è solo la gente del posto per cui vedi proprio un numero di persone molto minore, per cui ci cambia molto. Nelle città grandi si accusa di meno, però nei paesini più piccolini, qui a Pesaro bene o male, è abbastanza grande, allora c'è più popolazione, di conseguenza c'è più gente. Un po' anche la paura, magari i soldi sì, il lavoro è calato quindi di conseguenza anche i soldi da spendere sono meno, però anche la paura di spendere perché non sanno dove andremo a finire, quando finirà questa cosa. Le persone hanno paura di uscire, l'affluenza nei mercati non c'è, noi ci mettiamo tutto l'impegno del mondo per attirarli, però c'è tanta paura, c'è tanta paura, poi tutte le volte che cambia la zona, da zona gialla a zona arancione, si vede proprio il crollo del lavoro, il crollo del lavoro è consistente e stiamo sperando tutti nei turisti. Il mercato è il posto più sicuro, perché siamo fuori, all'aria aperta, perciò manteniamo le distanze perché non c'è questo assembramento di gente, perciò il problema che ci fanno chiudere, che siamo stati chiusi, noi eravamo quelli che potevamo tenere aperto tranquillamente, è più pericoloso andare in un supermercato che venire al mercato. Il mercato c'è ma l'affluenza è poca? Pochissima, pochissima, perché la gente, chi non si può muovere dai comuni, perché magari sono in zona arancione, perciò non possono cambiare comune, c'è poca gente, veramente poca, poi il problema è la crisi, perciò la signora che prima veniva al mercato adesso deve aiutare il nipote, deve aiutare i figli e perciò i soldi in tasca non ce l'ha.